Ci tengo a ringraziare gli organizzatori del convegno che si è tenuto a Palermo lo scorso 18 marzo presso Solemar, questo convegno è stato molto interessante da un punto di vista giuridico e anche da un punto di vista sportivo. Ringrazio per l'invito e per la bellissima opportunità di stare insieme a dei professionisti tanto qualificati e poter condividere con tutti le novità e anche le criticità del mondo dello sport a livello legislativo. Grazie a tutti e un caro saluto da Cesare De Cinchio.